Quella che si apre oggi è per la scuola una settimana complicata per molte ragioni. Intanto, proprio l'8 marzo, entrano in vigore le nuove regole previste dall'ultimo DPCM, che è poi anche il primo del governo Draghi. Regole che, come si sa, stanno ridisegnando la mappa delle regioni, che diventano sempre più rosse o quantomeno stanno passando al cosiddetto arancione rafforzato. Ma la vera novità è che nelle aree in cui si supera il tetto di 250 contagi ogni 100.000 abitanti si chiudono le scuole dell'infanzia e si passa automaticamente alla didattica distanza per tutti dalla primaria all'ultimo anno della secondaria di secondo grado. Con qualche eccezione, perché anche con l'ultimo DPCM è stato confermato che alunni disabili con BES e con DSA possono frequentare in presenza su richiesta della famiglia. Ma qui si apre un piccolo giallo. In una nota del 4 marzo, a firma del capo dipartimento Max Bruschi, si afferma che possono andare in classe anche gli alunni figli di operatori che lavorano nei servizi sanitari o in quelli essenziali. E così, già da venerdì, in moltissime scuole, dirigenti scolastici e docenti si sono messi all'opera per dare attuazione a questa disposizione. Le difficoltà sono apparse subito di non facile soluzione, perché non sempre l'organico della scuola basta per garantire contemporaneamente le lezioni in presenza e le lezioni a distanza. In alcune regioni si sono mosse anche le organizzazioni sindacali e persino alcuni USR hanno chiesto al Ministero di chiarire come procedere. Nel frattempo, alcune ordinanze regionali hanno ulteriormente complicato la vicenda. Fino a quando, nella giornata di domenica, il Ministero ha diramato un chiarimento con cui ha di fatto annullato le regole della precedente nota del 4 marzo. Adesso è chiaro che in presenza possono stare solo alunni con disabilità, BES e DSA ed è quindi con queste regole che oggi si inizia la settimana. In questi giorni, però, gli occhi di una parte consistente del mondo della scuola sono puntati anche su un altro problema che ha tenuto con il fiato sospeso tantissimi docenti che, secondo una norma contenuta nella legge 159 del 2019, non possono spostarsi dalla propria sede se non dopo cinque anni di servizio. La scorsa settimana gli incontri fra sindacati e Ministero si sono susseguiti a cadenza quasi giornaliera, ma non si è arrivati ad una conclusione. I sindacati chiedono la cancellazione del vincolo, ma il nodo è di natura politica perché il vincolo è espressamente previsto da una norma di legge e per essere cancellato o anche soltanto sospeso è necessario proprio un provvedimento legislativo. Vedremo nelle prossime ore se il Ministro Bianchi riuscirà a risolvere la questione dando risposta ad un problema che si trascina ormai da tanto tempo. Ovviamente su tutto questo noi continueremo a tenervi informati, quindi seguiteci su questo canale, ma anche nel nostro portale www.tecnicadellascuola.it Scriveteci, mandateci le vostre osservazioni, i vostri commenti e noi ne daremo conto come di consueto. Grazie a tutti.